Avrebbe compiuto 78 anni domani, ma non potrà mai festeggiare il compleanno di Nofavaro di Godega Sant'Urbano, morto questa mattina in un incidente stradale a Bibione. Intorno alle 9, l'uomo che si trovava in sella alla sua bicicletta stava percorrendo l'incrocio tra Corso Europa e Via Andromeda, a pochi metri dal lungomare, quando, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale del distretto Veneto Est, subito intervenuta, l'anziano è stato investito per cause ancora al vaglio degli agenti da un tir condotto da un 39enne di Castelcucco. Immediato l'arrivo sul posto dei sanitari del suo MMI 77enne nell'impatto aveva riportato gravi ferite ed è morto pochi minuti dopo. Favaro lascia la moglie e due figlie. Spetterà ora gli agenti della polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Fondamentali potrebbero essere anche le immagini del sistema di video sorveglianza della polizia locale che hanno ripreso tutta la tragica scena e che saranno utili alla magistratura per chiarire quanto accaduto ed eventuali responsabilità.